Amici di Poliradio, appena finito l'Eurovision 2015. Siamo qui a Vienna, proprio nella sala stampa della St. Halle. Ha vinto la Svezia, ma va bene così, siamo arrivati terzi. Grande risultato, sostenuto da Poliradio, la nostra radio preferita? Beh, una delle nostre radio preferite, insieme a Radio 2 ovviamente. Insomma, un abbraccio a tutti gli amici della Poli. Studiate, non perdete tempo. Via Politecnico è dura, studiate. Viva Vienna, viva l'Eurovision, viva l'Italia, viva il Politecnico, viva la Svezia. Ciao!